L'ex generale Serbo Ratko Miladik è stato condannato all'ergastolo da un Tribunale delle Nazioni Unite per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Per il suo ruolo nella guerra in Bosnia negli anni 90, e in particolare nel massacro di Srebrenica e nell'assedio di Sarajevo. Il Tribunale internazionale dell'AIA per i crimini nella ex Jugoslavia ha giudicato Miladik, soprannominato il macellaio della Bosnia, colpevole di dieci capi d'accusa sugli undici per i quali era processato. Il Presidente del Consiglio, che ha letto la sentenza, Alpons Ope, ha assolto Miladik da una delle due accuse di genocidio che gli erano imputata, ma l'ha condannato per l'altra, e per cinque capi d'accusa relativi a crimini contro l'umanità, e quattro relativi a crimini di guerra. Miladik, secondo la sentenza, è stato responsabile di operazioni di pulizia etnica, sterminio, uccisioni, infrazioni delle leggi di guerra, deportazioni, atti disumani di dislocamento forzato, terrore contro i civili di Sarajevo, attacchi contro i civili e presa in ostaggio dei caschi blu delle Nazioni Unite. Il Tribunale ha poi riconosciuto un importante contributo di Miladik al massacro di Srebrenica del luglio del 1995, quando le milizie serbo-bosniache occuparono la città di Srebrenica, dove avevano trovato rifugio migliaia di bosniaci musulmani, perseguitati dai serbo-bosniaci. Miladik ordinò il massacro di tutti i maschi adulti e adolescenti. In tutto, più di 7000 persone furono uccise, in quello che fu l'episodio più sanguinoso del conflitto nella ex Jugoslavia, durato dal 1992 al 1995. Mladik è stato condannato anche per aver diretto l'assedio di Sarajevo, durato quasi anni e durante il quale migliaia di persone, morirono uccise dai cecchini, dalle bombe o distenti.